Il bilancio in realtà da alcune ore ci sono le critiche delle opposizioni, lei in particolare nelle ultime ore ha parlato di alcune criticità, di alcune cose che secondo lei non vanno in particolare in questo bilancio, quali? Ho scoperto che in tarda notte è arrivato questo emendamento che ho definito emendamento serpente perché serpeggia in tarda notte, entra di nascosto e hanno fatto cosa? Hanno previsto purtroppo a fronte di tagli dell'8% di tutte le voci di bilancio importanti come sociale, sanità, trasporto pubblico per dirne solo alcune, hanno previsto l'aumento dello stipendio del direttore generale dell'Arta equiparandolo allo stipendio del direttore regionale, mentre prima era il 70%. Hanno previsto la riduzione dal 50% al 30% dei posti letto del pubblico nella residenzialità per anziani non autosufficienti, hanno previsto la realizzazione di piccoli e medi, possiamo dire, agglomerati commerciali, centri commerciali all'interno dei mercati coperti e dismessi e questo potrà pugnalare al commercio piccolo di vicinato, al piccolo commercio sicuramente, e poi si sono inventate una sorta di clausola di supremazia nel dichiarare un'opera da parte della regione di interesse strategico e pubblico, quest'opera andrebbe in deroga ogni tipo di autorizzazione e quindi si aprirebbe un varco, un'autostrada, chissà quali opere. Secondo me questo potrebbe essere motivo di impugnativa da parte del governo dichiarare incostituzionale una norma più importante della regione che è quella stabilità. Qualche giorno fa abbiamo ricordato che si sono anche previsti per il trasporto pubblico regionale, nonostante i tagli, l'acquisto di sei nuove autovetture lussuose e fiammanti. Quindi si acquistano le autovetture e poi gli autobussi si sfasciano, le autovetture molto probabilmente per dare ai dirigenti. Si aumentano gli stipendi, è una regione che ricorderemo solamente per aumenti di stipendi e soldi dati per cose inutili e questo non va bene.